Noi non pensavamo che li avremmo potuti ritrovare qui dentro, perché sembrava che fosse stata trovata per loro una sistemazione dignitosa. Invece da ieri pomeriggio sono tornati ad abitare nella Roulotte, qui nel piazzale antistante, il camping Tam Tam. Romolo Marinelli, ma che è successo? Niente, quello che so io è che il Comune ha pagato solo quei due mesi che siamo stati là, perché era fino a marzo. Poi, niente, noi dovevamo stare ancora là, il Comune non ce l'ha più e non ha potuto pagare. Lui mi ha detto, devi liberare la Camera perché se non me ne pagano io non ti posso tornare. Quanto tempo siete stati là? Tre mesi quasi. E quando l'avete saputo che non ci potevate stare più? Ieri. Perché tu una volta, una volta tu sei venuto da me, poi ho detto, ma c'è delle persone, ritorna, ma non sei tornato. Che volevi dirmi? Cioè, ah, quello che stava per accadere. Eh, quello che stava per accadere, perché quello mi disse, già me l'aveva detto un paio di volte, ma non questo qua adesso, era già prima. E niente, io la mattina, è passato lui, è passato, sta là, e gli ha detto che alle tre devo liberarmi la Camera. I domicili del Comune sono finiti, questo è il Movidivo, vero? Sì. E ma questa è stata qua, come stava prima, quanto tempo siete stati qua invece? Nove mesi. Nove mesi? Nove mesi. Signora, stava la cucina qua, dov'è? Eh, non c'è, sta fuori. Ah, ma la dovete rimontare ancora. E questo è un fornetto piccolo da campo. Sì. Allora, siete voi, lui, lei e il cane, questo ci stava pure prima, che si chiama? Birba. Birba? Ti mangiamo, almeno lei non ci fa. Sì, sta mangiando. E che pensate di fare, voi restate qua? Beh, per adesso sì, che dobbiamo fare. Ma perché hai detto per adesso, speri in qualche altra cosa? Che la nuova amministrazione prende provvedimento, provvederà, io che posso fare. Siete stati bene là? Dove, all'albergo? Eh, discreto. Discreto, discreto. Ma se ne andate anche un'altra signora che abitava lì, la signora Tafalex. Sì, Tafalex. E c'è rimasto uno, Giancola mi pare, un giovane. Sì, Fabricio. Poi è finito, solo voi cittadati del comune. No, del comune sono voi. Del comune, sì. Solo voi. E mo' come pensate di fare? Avete un'alternativa? Niente? Niente. Quindi aspettate. Sampiamo pure con soldi mia disoccupazione che mi sei quasi pure... Sempre quelli? Pure è finito, luglio mi sei finito. E quindi? E quindi non lo so. Romano, però mi dicono che tu qualche figlio ce l'hai. Eh? Qualche figlio ce l'hai, mi dicono. Sì, ma non hanno le possibilità. Sì, ma non hanno le possibilità. Sì, ma non hanno le possibilità. Sì, ma non è ieri questa lappa là. Pure l'altra volta. Non hanno le possibilità. Sei ce l'hai. Sei ce l'hai. Inizio dove stavate? Eh, stavate in affitto. Stavo da... Ci ha sfrattato. Ah, ti ha sfrattato perché serviva la casa. Sì. Perché non pagavate? Eh, perché non ci stavano in forza. Quindi solo la disoccupazione. Ma tu ne hai fatti il marinaio? Sì. E niente, ti tocca? No, la pensione non mi ha tocca. Non mi ha tocca? No, manco quella dei 65 anni. Niente. Perché è cambiata la legge a gennaio del 2019. Non siete stato manco fortunati, eh. Eh. Possiamo dire, eh. Eh, penso no. Quindi ora la speranza è la nuova amministrazione che verrà. Eh. Fai un appello già. Aiutate. Sì. Solo voi. A Giuranova ormai solo voi vivete il roulotto. Vero? Eh, esatto. E birba. E birba. Va vedi? Adesso oggi si è raggiustata tutta roba. Piano piano. Sì, perché ora dovete mettere l'emisola. Noi abbiamo fatto già un servizio una volta perché la cucina stava qua, un fornello, insomma. E ora dovete cominciare da capo. E mangiare questo, questo. Mangerete come potete. Eh. Fagiole, il tonno. Buono, il tonno è buono però, eh. Però non si può mangiare sempre tonno e il tonno. Ecco. In bocca al lupo allora. Se volevo fare. Noi facciamo questo servizio sperando che qualcuno si renda conto che nel 2019 sa Genne che ancora deve vivere così. Eh. Tutto, tutto. Grazie. Che qualcuno... Grazie.